we che cactus fai da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci xyuderone daie bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi porca miseria nel video di oggi parliamo di cash e di tantissimi cash intanto ragazzi grande novità l'abbiamo tutti ieri nello shop dopo quasi un anno tornano forse addirittura più di un anno tornano le skin dei baschettari mi raccomando ultimissima occasione per scioppazzare tutto il set completo nel video di oggi ragazzi parleremo proprio di come portarsi a casa 3 milioni di dollari ragazzi se siete bravi a fortnite se vi piacciono le mappe in creativa non perdete questo video perché potreste essere proprio voi a portarveli a casa parleremo anche dell'ultima notizia in casa phase ragazzi dopo quel pazzo criminale di x sky che fa il pazzo criminale da poche ore c'è un nuovo grandissimo membro che fa parte di questo clan di fama mondiale e soprattutto lo avete anche letto nel titolo sembra esserci un qualcosa di incredibile dall'ultima patch per gli utenti di pc ovvero sia sto parlando come leggete benissimo della mira assistita anche per i giocatori da computer quindi ragazzi un sacco di roba interessantissima prima però voglio ringraziare tutti coloro che mi supportano scioppazzando di prepotenza nello shop con il codice xyuderone grazie di cuore ragazzi per sostenere il channel mi raccomando non dimenticate di iscrivervi e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video e sulle mie live ma prima vi devo fare la domandina raga ci tengo tantissimo e dai l'avete quasi capita raga grazie anche per avermi commentato in tantissimi nella domanda di ieri è molto semplice ragazzi tiro in sospensione o tripla minaccia dai chi preferisci tra i due ragazzi sono entrambe due skin davvero molto molto belle nonostante la loro semplicità è proprio questa la cosa che a me piace tantissimo se dovessi scegliere io sceglierei tripla minaccia veramente molto molto bella anche più sinuosa quindi meno facile da colpire ditemi qual è il vostro preferito qua sotto nei commenti ma quindi ciancio alle bande e bando alle ciance andiamo subito subito a vedere questa immagine incredibile forse alcuni di voi l'hanno già vista nel mondo già se ne sta parlando noi ovviamente in italia arriviamo sempre con un leggero ritardo nuova collaborazione di fortnite e voi direte che cazzo collabora collabora come la lice del paese delle meraviglie no come lice è il nostro gatto no quello ragazzi è il logo di rubius e che cazzo è rubius ragazzi rubius è un fumettista barra streamer barra creatore di content influencer spagnolo ragazzi ultimamente ha cominciato anche a portare e da un po che porta anche fortnite parliamo di questa simpatica faccia da spagnolo che ha 34 milioni di iscritti sul canale quindi parliamo di roba veramente veramente incredibile e da pochissimo si sa della nuova collaborazione di fortnite con rubius alcuni dei suoi followers gli hanno creato una mappa in creativa davvero assurda ragazzi non voglio farvi vedere il video della mappa perché rischio il copyright ma vi lascio nel commento pingato forse anche in descrizione il link al video della mappa creativa così la potete vedere proprio da lui lui ha messo in paglio per tre di voi che completeranno la mappa un milione di dollari a testa ci sono semplicemente delle regole ragazzi la le vediamo in spagnolo io ve le ho tradotte in inglese e dicono il video che gli dovete mandare deve essere registrato nella partita quindi non vale se lo prendete dal replay quindi deve essere dovete registrare il vostro schermo dovete completare la vostra mappa la sua mappa da soli non potete avere aiuto da parte di nessuno potete mandare solo un video a persona quindi mi raccomando dovete utilizzare l'hashtag rubius trials e time to talk you complete the map dovete mettere nel titolo che avete completato la mappa ovviamente condividerlo su instagram o su twitter in modo che possa essere trovato dai motori di ricerca e c'è anche da completare un forum vi ho detto che vi rimando al suo video originale così lo ascoltate meglio e guardate soprattutto la mappa così capite come accedervi mappa davvero interessantissima ma anche super super difficile quindi il mio augurio di in bocca al lupo ad ognuno di voi se ve la sentite provateci e perché no magari siete quelli fortunati ma andiamo avanti ragazzi e parliamo di un'altra cosa interessantissima riguardante invece l'evento di picco polare quindi in realtà l'occhio gigante che c'è dentro la grotta che ancora si sta cercando di capire a chi appartenga vi sto mostrando ragazzi una delle skin del pass battaglia di questa season parlo ovviamente della skin demi ve la mostro soprattutto dalla parte sinistra perché guardate il braccio ragazzi ve lo faccio vedere un po più zoomato sul braccio di demi c'è un drago scarlatto ed è ragazzi molto interessante come cosa soprattutto perché si comincia a vociferare che potrebbe essere un easter egg per quello che è la creatura di picco polare molti dicono in realtà la grande impronta dove c'era sotto i vichinghi che potrebbe essere anche di un drago se non di un dinosauro la il fatto che ci siano state le uova proprio di drago si è vero sono nati alcuni dicono dalle uova è nato ibrido potrebbe essere ma potrebbe anche non essere e soprattutto se andiamo a vedere la descrizione di demi ci dice con tutta la potenza del drago di che drago si sta parlando scusate non si è mai menzionato nessun drago su fortnite quindi potrebbe essere magari un indizio che ci faccia capire che cavolo sarà quella creatura che tutti non vediamo l'ora di vedere in game ovviamente uscire da quella grande grotta di picco polare ma andiamo avanti ragazzi è ovviamente l'argomento più clou di questo video la mira assistita per gli utenti di pc non si riesce a capire se sia un glitch se sia un bug se invece sia una cosa voluta da parte di epic games ma l'avrebbero detto questo lo aggiungo io ho fatto sta ragazzi che da qualche giorno dall'aggiornamento della patch 9.10 molti utenti di pc si ritrovano ad avere la mira assistita cosa assolutamente impossibile per chi utilizza il mouse appunto data la estrema sensibilità del mouse voglio farvi vedere delle clip c'è dentro anche ninja ragazzi guardate utenti streamer da pc che senza rendersene conto hanno cioè che rendendosi conto hanno la mira assistita guardate ma sei serio anche lei dice cosa guarda assurdo ragazzi assurdo assurdo guarda questo guarda questo raga ma stiamo scherzando e guardate ninja e guardate ninja adesso io non so se anche a voi sia capitato io faccio sempre cagare a mirare nel senso quindi potrebbero mettermi anche le teste dei giocatori grandi così e le mancherei ugualmente ma guardate anche ninja anche lui guarda la faccia di ninja ragazzi sembra che ha visto babbo natale che gli scendeva dal camino porco giuda incredibile non si capisce ma ragazzi sfruttate ovviamente non posso non posso abbandonare la faccia di ninja così è meraviglioso come si do sfruttate ragazzi questo bug questo glitch questa qualsiasi cosa perché sembrerebbe davvero che l'automira per queste ore sia disponibile anche per i giocatori da pc quindi tanta tanta roba ragazzi e che dirvi con la faccia del nostro ninja sbalordito come se avesse visto un marshmallow gigante io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi al canale noi ci vediamo in live alle 13 ciao ciao